Questa è un'ottima occasione per parlare un po' con Giadeia. Vediamo se è sensibile al mio fascino del sud. Lei è bellissima. Circle, avvia una chat privata con Giadeia. Darian ti ha invitata a una chat privata? Ma dai, mi vorrà sposare. Nella mia testa siamo già sposati. Basta che dica le cose giuste e sarò tutta sua. Apri la chat privata con Darian. Guarda che belle le nostre foto profilo vicine.